Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film molto atteso che esce questa settimana che è Argyle, la super spia, nuovo film di Matthew Vogue che come il suo solito mette insieme un bel cast corale dove azione, spionaggio, commedia, tanta ironia, una voglia di divertirsi da matti, vengono unite tutti insieme in un film che dimostra ancora una volta, anche se non ce ne fosse bisogno, che Matthew Vogue è un gran regista, è uno che la macchina da presa sa usare benissimo ma conosce perfettamente il linguaggio del cinema e come, come dire, trasportare lo spettatore in un divertimento, intrattenimento, ritmo con quel gusto glamour che abbiamo visto nei suoi film passati come la saga Kingsman del quale, lo ammetto, assolutamente sono un grande fan e che reputo il primo e il terzo capitolo proprio dei bei film di intrattenimento senza esagerare, senza essere iper celtroni ma è anche il regista di uno dei più bei film sul mondo X-Men che X-Men all'inizio è uno che ci sa fare, ha fatto kick-ass, insomma è uno che lo conosce bene, la settima arte e conosce bene cosa dare al proprio pubblico ma con grande personalità e secondo me questo film lo dimostra un film che dura due ore e un quarto tempo giusto per sviluppare una storia e chi lo sa, box office permettendo ci sarà spazio ad altri capitoli, si parla già di una trilogia ma bisogna vedere sempre come va ma le idee all'interno del film ce ne sono tante come ne avevamo visto tante in Kingsman qua parte un altro progetto di Matthew Vogue ma parliamo della storia, la storia è quella di una scrittrice che è Ellie Conway che è interpretata benissimo da Brice Dallas Howard che è una scrittrice di grande successo sta presentando il suo sesto capitolo di una saga di spionaggio di libri di spionaggio e la sua vita è veramente al di là dello scrivere, di presentare i propri libri è piattissima, è una vita molto tranquilla, il suo modo di vivere è stare in casa col proprio gatto che è Alfie, anche lui è il protagonista e non chiede nient'altro della vita, proprio una vita serena ma cosa succede? Che nella sua serenità viene brutalmente sconvolta perché fondamentalmente quello che lei scrive lo vede e soprattutto c'è una organizzazione criminale che gli sta dando la caccia, lo vuole fare fuori perché il suo scrivere anticipa delle mosse e questo alla criminalità non piace per niente quindi lei è costretta a uscire dalla sua comfort zone di casa sua con il suo gatto e essere completamente travolta come un tornado da questi inseguimenti in tutto questo interverrà un meraviglioso Sam Rockwell strepitoso che formerà con Ellie, quindi con Bruce Dallassauer una strana coppia assolutamente inaspettata ma meravigliosa Sam Rockwell è una spia che cerca di salvare Ellie il motivo, me ne guardo bene da dirvelo ma da lì parte un viaggio che li porta in giro per diverse parti del mondo e in questo viaggiare i tastelli si uniranno si creerà un mosaico che ha alcuni momenti che sembra un po' un dottor Jekyll e Mr. Hyde ma ci porterà al finale un finale pieno d'azione forse un finale leggermente allungato ma che darà senso a tutto questo viaggio a tutto questo succedere di eventi apparentemente inaspettati è un film che mi è piaciuto veramente tanto mi ha divertito tanto e che mi è piaciuto perché Matthew Walk gioca benissimo non solo con tanti registri ma li contrappone l'ironia è dall'inizio alla fine molto molto evidente ma c'è una capacità di giocare con certi concetti del cinema è molto citazionista in diversi momenti ma sa prendersi in giro e prendere in giro anche certi stereotipi certi personaggi e ne viene fuori un film incredibile è un film proprio come una giostra ma una giostra di intrattenimento che ha una sua logica che anche nel sviluppare la storia ti lascia qualche domandina qualche riflessione anche in alcuni momenti in maniera leggera ma anche esistenziale che arricchisce il film cioè non è solo un bel film di intrattenimento ma riesce ad aggiungere anche degli spunti c'è anche una nota di romanticismo un certo sapore glamour c'è tantissimo è un film che mi ha proprio rapito che volevo vedere perché Matthew Walk è proprio un gran regista ma la forza secondo me del film non è solo la regia di Matthew Walk ma secondo me è una sceneggiatura veramente spy firmata da John Fax che nel suo passato ho guardato un po' non ha fatto niente di particolare ho visto che ha scritto sceneggiature come Pan il film su Peter Pan e l'era glaciale 4 quindi delle cose non particolarmente memorabili ma in questo film secondo me tira fuori una sceneggiatura quasi perfetta c'è qualche momento che forse è un po' troppo condensato per capire certi passaggi ma è un film che si segue non solo si segue bene ma che ti coinvolge poi la creazione di questa bellissima coppia un po' la bella e la bestia perché Sam Rockwell è veramente su di giri ma allo stesso tempo può essere romantico Bryce Dallas Howard è molto brava secondo me la sua migliore interpretazione è anche a cambiare modo di interpretare il proprio personaggio e divertirsi anche su se stessa su certi aspetti anche nel modo di vestire insomma è un film decisamente scopiettante ma è un film secondo me molto solido molto valido e poi c'è Harvey Cavell Harvey Cavell che è no Cavell che è un'altra bellissima sorpresa perché hanno usato Harvey Cavell come faccio un paragone come si usava un po' negli anni 90 le grandi star di Hollywood come Schwarzenegger e Stallone cioè loro sono delle icone del macismo di un certo cinema action si ribaltano e vengono sfruttati come personaggi a quanto ironici tirando fuori come dire un talento inaspettato con Harvey Cavell viene fatta la stessa cosa come perché non ve lo racconto ma ci sono momenti in cui ti fa proprio morire da ridere in grado anche lui di cambiare tono tra il serio e il faceto all'istante e il suo stesso personaggio che è appunto Argyle che è il protagonista delle storie della scrittrice Ellie ha un senso ha una una logica e compare solo in certi momenti ma c'è un motivo che ovviamente non vi voglio dire insomma è una è stata una una bella due ore e un quarto di 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 che ha un suo assolutamente un suo senso una sua logica quindi non so il il divertimento secondo me è assicurato ha solo come detto forse un po' di eh lungaggine nel nel finale perché si vede Matthew Vog che sta divertendo tantissimo nel fare tutta una serie di inquadrature molto dinamiche all'interno di di una di una nave si 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 vede che si stava divertendo e anche si divertiva a giocare con con i personaggi e forse un pelino all'inizio andava magari un pochettino più accelerato ma poi quando si forma questa bellissima coppia vedrete un film assolutamente valido divertente molto molto piacevole e soprattutto ben fatto anche da un punto di vista di effetti speciali, effetti visivi, insomma un film a tutto tondo che secondo me merita, se questo è il primo capitolo voglio già vedere gli altri perché secondo me ci sono delle belle idee da sviluppare, dico un'ultima cosa che il film è una scena post credit, di cosa parla la scena post credit? Assolutamente non ve lo voglio dire ma un film da vedere, due ore passa ben spese di intrattenimento, di livello come Matthew Vogue sa fare perché conosce il cinema, conosce certi linguaggi e sa quello che diverte ma un film che ha assolutamente una grande personalità quindi bello, 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 come se non si fosse capito che mi è piaciuto veramente tanto. Per questa recensione è tutto, ricordo il film esce il primo di febbraio, questo mix di azione, thriller, commedia, spy, romanticismo, cioè veramente di tutto ma ben messo tutto insieme. Veramente tutto, ciao a tutti e alla prossima.